Aggancio riuscito! La navicella Endurance Dragon è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale, completando la missione di NASA, ESA e SpaceX, denominata Crew-7. La sala di controllo di Cape Canaveral ha gestito dopo 30 ore di viaggio l'arrivo del nuovo equipaggio, con l'apertura del portello di bordo con quattro nuovi astronauti. L'americana Jasmine Mogbelli, il danese Andreas Mogensen, che sarà il futuro comandante della stazione, il giapponese Satoshi Furukawa e il russo Konstantin Borisov. Ad accoglierli gli altri sette colleghi in orbita ormai da sei mesi, ora il team è composto da 11 astronauti, quattro americani, quattro russi, un danese, un giapponese e un cosmonauta degli Emirati Arabi, l'ormai celebre Sultan Al-Meiadi. La stazione spaziale resterà affollata solo per pochi giorni, dal primo settembre quattro degli astronauti torneranno sulla Terra. È iniziata ufficialmente la nuova missione Hagen, chiamata come uno dei corvi di Odino. 30 gli esperimenti scientifici in programma.